Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera dottor Floris! Allora, in questa settimana in cui tanto si è parlato dei tagli e dei compensi agli artisti Rai, cioè di pagare meno quelli che vanno in video, tagliare gli stipendi ai comici Rai... E con immenso piacere che vi salutiamo dalla Sette! Una rete moderna che non ha bisogno di polemiche per essere notata, e non ha bisogno di politici per essere ascoltata. Ha bisogno di un'antennista per essere vista. Sono cose che succedono. Comunque dottor Floris, dica al dottor Cairo che noi siamo due artisti liberi, quindi noi due, per soldi... Diamo addosso a chi vuole lei, sia chiaro! Grazie, grazie a dottor Floris per il compito che ci ha assegnato. Beh, raccogliamo un'eridità importante. Eh, mica da ridere, eh! Salutiamo il nostro amico Maurizio. Da Maurizio! Te lo ricordi Maurizio come faceva quando veniva qua? Come faceva? Si collegava, come faceva... Ciao Giova! E poi come faceva? Senti un po', Giova... Aspetta, 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 poi come faceva? Bellin, Giova! E poi quella volta lì ti ricordi che aveva iniziato... Non capisco una cosa, Giova! E poi? E Giova si rotto il calcio e l'ha mandato a casa? No, 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 ma gli vogliono un sacco di bene, ma gli vogliamo tutti un sacco di bene. Allora, vai, cominciate. Facciamo un po' il punto sulla politica italiana. Sì, anche per rendere il dibattito dopo più comprensibile. Eh, beh, anche perché sai che c'è? C'è Di Battista! No! Di Battista! Di Battista! Oggi Gasparri ha detto che Di Battista per lui è un po' come Bombolo. Però non è vero. Ma sai che non c'è mica tutti i torti? Ma no, ma non è vero, non è come Bombolo. Sì, perché te lo vedi. Che cosa? Di Battista che va al piangino. Ah, oh! No! Di politici bevando schifo. Sì, ho capito, ma non fa così. Ah, oh, andate per te. Sì, non fa. Se vuole il reddito del cittadino. Ma non fa. Onde sta? No! Onde sta? Va bene, va bene, va bene. Perché lui è legato al popolo, in effetti, Di Battista, è uno di noi, no? Beh, il popolo, intanto è laureato. Davvero? Sì. Lo nasconde benissimo. Ma come si? Lì ha studiato al Dams e si sa che, oh, al Dams... Non fanno un cazzo. No! Non è cazzo. No, non è vero. Ha scritto anche dei libri. Guarda, per farti sapere, nel 2010, Dibba, per scrivere un libro è stato, nello stesso anno, in Argentina, in Cile, in Paraguay, in Bolivia, in Peru, in Ecuador, in Colombia, a Panama, in Costa Rica, in Nicaragua, Guatemala e a Cuba. Eh, la figa piace a tutti, eh. Ma non c'è stata. Ma non c'è stata. Allora, scusate, un disfaccio dalla redazione. Presentate oggi le nuove banconote da 50 euro, valgono 48. Eh, si sa, si sa, le cose non vanno benissimo. Dicevamo, il punto della politica italiana. Descriviamo, riassunto. La situazione è molto semplice, ci sono tre grossi poli che più o meno hanno tutti il 30%. Destra, sinistra e centro. No. Destra, sinistra e grillo. Che sta al centro. No, no, non sta al centro, sta sopra. No, sotto. No, sta guarda. Eh, no. Dove sta? Vabbè, deciderà il web. Ci sono destra, sinistra e grillo. Però non ho capito. Allora, il centro è vuoto se grillo o no. No, 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 no. Al centro ci stanno Parisi, con Energie per l'Italia, Alfano, con Alternativa Popolare, Casini, con centristi per l'Europa. E comunque, allora abbiamo il destra. Fitto, con Direzione Italia, scusatemi. Ah, c'è fitto. Quagliarello, con idea, identità e azione. C'è anche poi la famosissima idea. Alla, Librandi, con Obiettivo Italia, poi scelta civica e democrazia solidale. Ma quanto è largo sto centro? Molto. Idea! Liberiamo il centro e facciamo lo stadio della Roma. Eh! Scusate, una velina. Prego. Albano, in un'intervista, dichiara ogni tanto sento Satana. Satana risponde... No, io ascoltare Albano proprio non ce la faccio. Bene, dicevamo, tra poco ci saranno le elezioni. Cosa c'è? Ti ha fatto ridere quella di Albano, Satana? No, che dicevi che tra poco ci saranno le elezioni. Ah, tra un po', diciamo. Tra un pochino. Il punto cruciale sarà la questione dell'Europa. Ma qui le posizioni sono chiare. Allora, Renzi vuole più Europa. Berlusconi meno Europa. Salvini zero Europa. E Grillo sì Europa. No, Grillo no Europa. Grillo sì Europa. Non raccomparaci, scusate, no. No, sì, però dopo ha fatto sì Europa. No, 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 guarda che non ha detto, cioè non ha detto, ha detto prima no, poi... Però poi ha detto sì. Vabbè. Deciderà il web. Ecco. Scusate. Un altro disparso. Avvistati i cinghiali liberi per le strade di Roma. È uno schifo, non si può vivere in una città in questo stato, ha dichiarato mamma cinghiale. Beh, parlavamo di Europa, ma collegata alla questione Europa c'è la questione dell'immigrazione. Renzi, e poi è facile, perché sono tutti chiari, Renzi vuole più immigrati. Berlusconi meno immigrati. Salvini zero immigrati. E Grillo no immigrati. No, no, no. No, Grillo, scusate, Grillo sì immigrati. No, no, Grillo no immigrati. No, Grillo no immigrati. Ma sì, l'ho visto l'altro giorno in intervista con Di Maio che diceva, mamma di Maio quando fa un web vuol dire no immigrati. Vabbè. Deciderà il web. Dunque dicevamo, Europa, immigrazione. Ma ci sono anche questioni etiche, per esempio i matrimoni gay. Ma beh, 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 ma anche qui le posizioni sono chiarissime. Cristalline. Renzi vuole più matrimoni gay. Berlusconi meno matrimoni gay. Salvini zero matrimoni gay. E Grillo no matrimoni gay. No, Grillo sì. No, 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 guarda su questa Grillo non gli vuole matrimoni gay. Ma Grillo sì sì. Ma Grillo è omofobo. Ma è omofobo. Ma tocca il vaffa gay. Vaffa dei. Vaffa dei. Ah, il vaffa dei. Non l'avevo capito. Diciamo che per Grillo non è un argomento che può... Cioè non è l'isturio. No, 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 no. Vabbè. Deciderà il web. Oh, date una velina. Sì. Dopo l'esito delle primarie, Renzi più fiducioso in se stesso. Aperto un conto in Banca Etruria. Beh, beh, ben fiducioso. Stiamo parlando di tutto. No, stiamo parlando di un bel web. Ah, è vero. Una domanda. Ma che cos'è questo web? Ah, beh, te lo spiego, mio caro amico. È una rete di interconnessione, web, è una rete di interconnessione tra persone per un confronto diretto sulle idee. Quindi la rete è anche un filtro? Beh, la rete può fare anche... può fare anche da filtro. Pensavo che Rino Formica diceva la politica è sangue merda. Quindi nella rete il sangue passa e resta... La merda. Vabbè. Deciderà il web. A proposito di web, l'altro conto Casalizzo Junior ha detto che il PD è come Blockbuster, mentre il Movimento 5 Stelle è come Netflix. Che un po' è vero. È vero, cavolo. Ho una domanda, se il Movimento 5 Stelle è Netflix e il PD è Blockbuster? Allora, Berlusconi cos'è? Beh, Youporn! Rienerci, dottor Floris! Saluti! Se adesso Floris ha una domanda storia, a Di Battista, come vi risponde? A Floris! Ma le portate? Tu, a Floris! Ma non fai di darbaccio? Ma non fai di darbaccio? O me sta? O me sta? Non fai di darbaccio? Ma baffa! No! Rienerci, Floris! Rienerci! 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 Grazie! Grazie.